Finalmente la festa, dal 3 al 7 settembre all'area Hauser di via Zanardi con figlio a Voghera, la festa di liberazione. Organizzata dal circolo Ermanno Gabetta, la Kermess di Rifondazione si propone, in questa ventesima edizione, come evento di aggregazione, consolidante la migliore tradizione cittadina con un ricco programma di iniziative ed appuntamenti che ne rinnovano il successo anno dopo anno. Appuntamento musica, con quattro serate dedicate agli stili più diversi. Venerdì 3, il blues dei Mandolin Brothers. Sabato 4, serata danzante con i favolosi anni 60 dei Kiri. Domenica 5, tutti in pista con il liscio dell'orchestra Morisio. Martedì 7, si balla al ritmo del latino americano con i Cuba Mania, Guillermo e Alberto. Appuntamento dibattito, con spazi pomeridiani dedicati alla discussione e all'analisi delle problematiche più attuali, dalla politica al lavoro, dalla sicurezza alle tematiche sociali. Appuntamento espositivo, con allestimento di stand all'interno dell'area festa e la presenza dell'Associazione Culturale Italia-Cuba, dell'Associazione del Kurdistan, della Federazione Giovani Comunisti di Pavia e di Emergency. La mostra fotografica sull'antifascismo a cura dell'Ampi, la retrospettiva di opere fotografiche in ricordo di Angelo Regazzon e la libreria per la vendita e pubblicizzazione di opere letterali. Appuntamento gusto, tutte le sere, bar, birreria e ristorante, per una continuità di successo con la cucina locale e le alternative di domenica 5 con il pranzo rosso e martedì 7 con la cena della fiesta cubana. Appuntamento fortuna, con la tradizionale vendita dei biglietti della lotteria e l'estrazione martedì 7 di un viaggio a Cuba e tantissimi altri premi. Festa di liberazione, dal 3 al 7 settembre 2010 a Voghella. Non prendere impegno, ti aspettiamo! Grazie! 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 Grazie!